Amica o amico di YouTube, benvenuto nella mia aggiornatissima guida di Sorare per la stagione 2023-2024, ma soprattutto ben ritrovato o benvenuto sul mio canale YouTube. Io sono Lamella e da più di due anni sono manager di Sorare. Sono anche un content creator di questo gioco e sono attivo con una grande community sia qui su YouTube ma anche sulla piattaforma Twitch. Faccio questo video perché è passato più di un anno dall'ultimo video e dalla mia ultima guida. In questo lasso di tempo è veramente cambiato tantissimo all'interno del gioco. Prima di cominciare ci tengo a specificare che i miei non sono consigli finanziari ma voglio condividere con te quelle che secondo me sono le opportunità che la piattaforma può darti a livello di divertimento e anche se sarai bravo a livello di gratificazione economica. Con le ultime modifiche infatti è diventato molto più semplice entrare all'interno della piattaforma e da un certo punto di vista anche più economico perché se penso a quando entrai nel 2021 la spesa da affrontare per iniziare a vincere dei premi in denaro era molto più alta rispetto a quella che devi affrontare adesso. Più avanti nel video capirai anche perché. Ora io cercherò di spiegarti cosa sia Sorare, come giocarci e magari se ci riesco anche a darti una mano a vincere qualche premio. Tutto pronto? Cominciamo! La prima cosa da fare ovviamente è registrarsi al sito. Io ti consiglio di utilizzare un link referral perché ti darà diritto ad una promozione che altrimenti non potrai ricevere. Lo sconto ti tornerà sicuramente utile e anche qua ti garantisco che capirai il perché alla fine del video. Se vuoi utilizzare il mio referral io ti ringrazio anticipatamente perché mi darai la possibilità di ricevere una carta in omaggio. Una volta che ti sarai iscritto a Sorare avrai la possibilità di scegliere uno dei tre giochi presenti, ovvero MLB che sarebbe la Lega Americana di Baseball, NBA che è il Basket e poi c'è il Football che immagino sia quella parte a cui tu sei interessato. In questo video ti parlerò proprio di questa sezione che è anche la più utilizzata e famosa. Per farti prendere confidenza con la piattaforma Sorare mette a disposizione la possibilità di giocare in modalità free to play, quindi potrai abituarti alla navigazione del sito e ad alcuni concetti base del gioco senza dover spendere soldi. Per rendere tutto più interessante Sorare assegna anche dei premi nella modalità gratuita e per questo motivo fin da subito potrai iniziare a competere per vincere premi di valore sotto forma di carta che potrai utilizzare anche nelle modalità di gioco a pagamento. Ma partiamo dal principio, che cos'è Sorare? Perché dovresti giocarci? Sorare è una piattaforma di gioco in stile fantasy game che unisce l'aspetto manageriale di un club calcistico a quello di collezionabilità delle carte. Le carte sono a tutti gli effetti NFT, su blockchain e Ethereum. Questo significa che tutte le tue carte saranno tue per sempre e ti garantiranno le performance di un dato giocatore fino alla fine della sua carriera. In questo gioco ci sono un sacco di campionati e squadre con licenze e probabilmente ti sarà capitato di vedere in televisione i cartelloni pubblicitari di Sorare durante le partite di Serie A o Premier League. In questa schermata puoi notare la mole di squadre che attualmente hanno un accordo con la piattaforma. Iniziando a giocare nella modalità free to play chiamata draft, quella di cui ti stavo parlando prima, potrai prendere familiarità col gioco scegliendo una squadra di 10 giocatori di una data lega, ad esempio la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Ligan, l'MLS, la Liga. La tua squadra dovrà essere composta con un valore massimo di 400 punti. Ogni giocatore avrà un suo valore calcolato in base alle sue ultime 15 prestazioni ufficiali e tu dovrai scegliere due portieri, due difensori, due centrocampisti e due attaccanti, cercando di rimanere nel limite imposto di 400 punti e senza sforare il limite di due giocatori per società calcistica. Questo vale a dire che all'interno di una squadra della Liga non potrai avere tre giocatori del Real Madrid, ma al massimo ne potrai avere due. È un po' come fare la formazione del fantacalcio con l'istone, ma lo potrai fare in tutti i campionati principali e non solo nella Serie A. Per giocare ogni settimana dovrai poi decidere di schierare solo cinque di questi giocatori, un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante, più un giocatore extra che può essere di qualsiasi ruolo tranne ovviamente il portiere. Nella modalità draft ci sono uno o due tornei a settimana in base ai turni di campionato. Questi tornei ti danno la possibilità di vincere delle carte che sono rivendibili o da utilizzare nella modalità pagamento del gioco. Ma quali sono queste modalità a pagamento? Il gioco, oltre alle carte common gratuite che sono di colore bianco, ha quattro gruppi di rarità di carte. Giallo, che sono le meno costose e si chiamano limited, rosse che sono le rare, blu che sono le super rare e nere che sono le uniche. I colori determinano quante carte Sorair può stampare nel corso di una stagione. Limited ne potrà stampare mille, rare ne potrà stampare cento, super rare dieci e uniche ovviamente solo una. Ogni stagione le carte cambiano design e da quest'anno Sorair ha introdotto le carte 3D. Sulla carta possiamo vedere alcune caratteristiche importanti, la stagione, la squadra, il numero di maglia, il ruolo, l'età, la nazionalità e il numero di tiratura. Inoltre qui sotto potete vedere il punteggio alle 15 della carta, che è lo stesso di cui parlavamo nella parte free to play, ovvero la media della performance delle ultime 15 partite ufficiali del giocatore. Come viene calcolato questo punteggio? Il punteggio di una carta può andare da 0 a 100 per ogni partita. Per determinare questo punteggio ci sono due gruppi di elementi da considerare. Il primo gruppo è chiamato decisive e sono tutte quelle azioni decisive in una partita. Gol, assist, rigori parati, cartellini rossi e altri che vi lascio nel dettaglio in descrizione. L'altro gruppo di elementi da considerare è quello che viene chiamato all around o con la sigla AA. Qui vengono assegnati dei punteggi in base a tutte le altre azioni che un giocatore può fare all'interno di un match. Passaggi riusciti, tackle, duelli vinti, spazzate, possessi vinti e persi, eccetera eccetera. Anche qui ti lascio tutto nel dettaglio in descrizione. Sarà importante per te imparare bene come funziona questo sistema di assegnazione di punteggi perché riuscirai meglio a valutare il valore di un giocatore e riuscirai anche a costruire una squadra più forte. È molto più complesso e realistico rispetto ad un normale fantacalcio e non è detto che un giocatore che ti sembra scarso nella realtà lo sia anche su Sorair. Torniamo ad evidenziare le caratteristiche delle carte. Come vedi a fianco al punteggio L15 c'è una percentuale. Questa indica il moltiplicatore XP che verrà aggiunto al punteggio totalizzato della carta in una determinata partita. L'XP sale secondo tre fattori. Il primo riguarda il bonus della stagione. Infatti se possiedi una carta nuova, quindi della stagione in corso, avrai questo bonus aggiuntivo del 5%. Ogni anno vengono stampate nuove carte e tutte queste carte avranno sempre il 5% in più di bonus. Una volta terminata la stagione la tua carta perderà il 5% di bonus e se vorrai usufruirne ancora dovrai comprare una carta della stagione in corso quell'anno. Il secondo parametro riguarda i livelli della carta. Ogni carta quando viene utilizzata guadagna dei punti che sommati ne determinano il livello. Ogni livello aggiunge 0.5% al tuo punteggio XP. Va da sé che più utilizzerai una carta e più tempo la terrai nel tuo club, più alto sarà il suo livello e quindi il bonus XP che verrà assegnato ad ogni partita. I livelli della carta possono essere alzati più velocemente inserendo i giocatori all'interno di competizioni come l'Academy, che servono proprio ad allenare i tuoi giocatori. Il terzo parametro a conferire bonus è quello legato alle collezioni. Su Soreri infatti è possibile comporre degli album come quelli delle figurine panini. Questi sono dedicati alle squadre divise per le varie stagioni a rarità. Qui puoi vedere il mio album dedicato alla squadra di Seattle della stagione 2021-2022. Come vedi possiedo 12 carte di questa squadra, che al momento mi danno 2% in più di XP bonus applicato ad ognuna di queste carte. Andando a controllare nello specifico la carta potrai vedere quanti punti collezione ottiene attraverso essa. Il mio Yemar, oltre ai 10 punti standard che prendono tutte le carte nella collezione, prende 30 punti supplementari per avere il numero di tiratura uguale al numero di maglia, in questo caso il numero 28, e 10 punti in più perché non lo metto in vendita da più di 90 giorni. Ad assegnare ulteriori punti collezioni ci sono le carte numero 1, come il mio Almada Limited, che ha anche il bonus primo proprietario perché l'ho comprato in asta. Per ogni album c'è una classifica di collezionisti che è facilmente consultabile da qui. Inutile dire che il bonus XP è fondamentale per riuscire a scalare le classifiche delle varie competizioni, perché a parità di squadra vincerà il team con maggiori bonus XP. Dopo aver parlato tanto di teoria andiamo a navigare all'interno del sito. In alto a destra vedi la possibilità qui di aprire questa tab, che è quella del nostro profilo, dove c'è la possibilità appunto di switchare tra i tre giochi, football, NBA e MLB. Più sotto abbiamo una sezione dedicata ad azioni prettamente dedicate al mercato, ne parleremo dopo, poi c'è la rotellina delle impostazioni, il tasto per invitare i tuoi amici, il tasto per richiedere assistenza e poi quello per fare logout dalla piattaforma. Chiudendo questa tab abbiamo la campanellina delle notifiche, poi c'è una lente di ingrandimento che ti darà la possibilità di andare a cercare giocatori, manager, squadre e quant'altro. Su Sorare, ancora più a sinistra il simbolo del portafoglio, ovviamente quello del wallet, dove puoi inserire i soldi in crypto e in moneta cash, quindi euro. E ancora più a sinistra quella cifra sono i gettoni che in questo momento io possiedo, eppure di questi gettoni ne parleremo più avanti. Se sposti il tuo sguardo a sinistra e vai proprio all'estremità del sito, ci sono quattro tab. La prima gioca è quella che stiamo vedendo in questo momento. Qua hai la possibilità di scegliere le varie competizioni in base alla cadenza temporale. Nella parte pro ci sono i tornei settimanali, nella parte custom leagues ci sono i tornei mensili e i tornei personalizzati che puoi creare per giocare con i tuoi amici o con la tua community. Nella parte daily, che è ancora in close beta, ci sarà un testa a testa da fare con gli amici a livello quotidiano. E poi più sotto l'assistente del manager che in questo momento vedi completato da me, perché ovviamente sono da tanto tempo sulla piattaforma, ma che nel tuo caso sarà pieno di notifiche e di azioni da fare e ti consiglio ovviamente di seguire. Poi in basso a destra la tab dei montepremi di cui parliamo più avanti. Sotto la tab gioca c'è quella mercato. Una sezione di questo video sarà dedicata proprio al mercato. Poi abbiamo questa tab invece fondamentale, che è la tab live, dove puoi vedere tutte le performance dei tuoi giocatori, future e passate, quindi dove giocheranno i tuoi player, dove sono stati schierati. Puoi vedere anche le partite giocate in passato, ad esempio se clicco posso vedere che la performance di Trap in questa partita di Bundesliga ha ricevuto un punteggio di 63. Posso schiacciare su formazioni e andare a vedere proprio come è andato tutto il match con tutti i punteggi di tutti i giocatori coinvolti. Cliccando avrò anche il dettaglio di ogni giocatore selezionato. Sempre all'interno di questa tab live abbiamo le squadre schierate da noi nelle competizioni in passato e anche quelle future che abbiamo schierato per le settimane in arrivo. Se clicchiamo su uno di questi tornei che abbiamo disputato, possiamo vedere ad esempio i punteggi che abbiamo ottenuto in questa competizione. Possiamo vedere anche la classifica di quella competizione in quella settimana e poi il prize pool. Ultima tab, il mio club. Qui hai quello che riguarda appunto la tua galleria e il tuo account. Nella sezione principale, la prima qua in alto, puoi andare a modificare il tuo nome, il nome della squadra, il tuo stato. Puoi inserire i link dei social. Più sotto hai la possibilità di fare in evidenza le tue carte. Giacciando su questo tasto puoi anche creare delle nuove squadre da mostrare all'interno dell'All of Fame. Più sotto ancora, la parte fondamentale, andiamo a vedere quello che c'è all'interno della nostra galleria. Quindi qua ci ho reso conto con la quantità di carte in base alle scarsità, alle rarità. Poi abbiamo anche la possibilità di vedere tutta quanta la galleria con tutti i filtri del caso se vogliamo fare delle ricerche specifiche nella nostra galleria. Tornando nella tab del mio club, abbiamo l'ultima sezione che è quella che riguarda le collezioni che abbiamo già visto prima. Anche qua tasto C-Collections e si può andare a vedere tutte le collezioni, ma l'abbiamo visto poco fa. Arrivato il momento di parlare del mercato. Ci sono due tipi di mercato. Il mercato primario, che è composto dalle aste ed è dove Sorare mette direttamente in vendita le carte fresche di stampa. Quando paghi una carta in questo mercato, i soldi vanno direttamente a Sorare. Il mercato primario delle aste è anche il mercato dove dovrai fare i 5 acquisti se ti sei iscritto con il link referral e vuoi approfittare della promo di cui ti ho parlato ad inizio video. In questo mercato puoi anche acquistare un bundle di 5 carte. Oltre al mercato delle aste, esiste il mercato secondario, che è il mercato delle carte vendute e scambiate direttamente dai manager. Tu stesso puoi vendere le carte su questo mercato ad un prezzo che scegli tu. I manager saranno liberi di farti delle offerte per la tua carta in vendita o di acquistarla direttamente al tuo prezzo tramite il tasto acquista. È anche possibile fare scambi con soldi più carte o direttamente carte per altre carte. Recentemente è stata introdotta una regola per la quale se vendi una carta che stai utilizzando in una competizione, la formazione di quella competizione viene annullata. Per questa ragione ti consiglio di fare attenzione quando vai a mettere le tue carte sul mercato. Cerca di vendere solo quelle che non stai utilizzando in game. Ora che hai esplorato il mercato, è venuto il momento di vedere come funziona una settimana di gioco. Dalla tab Play, clicca su Pro. In questa schermata vedrai tutti i tornei nei quali puoi iscriverti. Come vedi, le settimane di gioco sono divise per date e per numero. Se metti la spunta blu, vengono esclusi tutti i tornei in cui non hai le carte con i requisiti necessari per partecipare e puoi utilizzare il filtro per escludere delle competizioni che non ti interessano. Faccio vedere come mi posso iscrivere a una competizione senza restrizioni, ovvero l'All Star. Lo faccio nel torneo dedicato alle carte limited. Clicco sul nome della competizione per avere tutti i dettagli. Il monte premi totale, Quali carte mi servono e se ci sono regole particolari, tipo il capitano. Posso anche consultare il calendario delle partite valide per questa competizione e la distribuzione specifica dei monte premi. Una volta raccolte tutte le informazioni, clicco su Iscriviti e schiero la mia squadra. A questo punto sono pronto per giocare. Come vedi, ci sono delle competizioni che si chiamano Cap e una cifra. Il gruppo di queste competizioni noi le chiamiamo Capped. La cifra sta ad indicare il limite massimo che puoi raggiungere schierando la somma della media alle 15 dei tuoi 5 giocatori. Ora però fai attenzione perché ti parlo del torneo più importante del gioco, la Cap 240. Come in tutte le altre competizioni con Cap, la Cap 240 è presente su tutte le rarità. Ma a differenza di qualsiasi altro torneo, oltre ai premi dedicati, puoi vincere un premio in denaro semplicemente raggiungendo il punteggio soglia di 280 punti. Raggiungendo questo punteggio soglia, nelle carte gialle avrai 5 dollari di premio. In quelle rosse 50, in quelle blu 200 e in quelle nere addirittura 500 dollari a torneo. Per avere una visione chiara di tutti i tornei e dei loro premi, ti viene in aiuto nella tab Gioca questa sezione chiamata Montepremi. Qui puoi trovare anche i tornei che sono stati disputati in passato con tutte le classifiche e i vincitori. Avrai notato che oltre ai tornei Capped, di cui abbiamo parlato, i tornei Draft, delle varie leghe, ci sono tante altre possibilità di gioco. Lo Star, il torneo che ho utilizzato prima come esempio, è il torneo più antico della piattaforma SoRare. Puoi utilizzare qualsiasi carta e come unica restrizione avrai quella della sua rarità. Questo significa che ovviamente non puoi giocare il torneo All-Star Rare con carte limited. Nei tornei Kick-Off invece devi utilizzare una carta della rarità del torneo e 4 carte della rarità inferiore. Se giochi la Kick-Off Rare dovrai usare una carta rara e 4 carte limited. I tornei Specialist invece ti obbligano ad usare 4 carte della rarità del torneo e una della rarità inferiore. Inoltre dovrai stare all'interno di 270 punti di cap. Nella Specialist Limited devi quindi usare 4 carte gialle e una bianca. Oltre a questi tornei esistono i tornei con restrizioni regionali. In queste competizioni potrai utilizzare solo giocatori che militano all'interno di campionati di determinate regioni. In Campione America potrai schierare solo carte dei campionati americani. In Campione Asia solo giocatori che militano in campionati asiatici. In Campione Europa vengono considerati solo i giocatori dei 5 principali campionati europei. Serie A, Bundesliga, Liga, Ligan e Premier League. Mentre in sfidante Europa potrai schierare solo carte di tutti gli altri campionati europei. Ad esempio Olanda, Belgio, Turchia, Portogallo ecc. Esiste anche il campionato Second Division, dove sono ammessi solo giocatori delle seconde divisioni dei 5 campionati principali in Europa. Restrizione d'età invece per il campionato Under-23, dove potrai schierare carte di giocatori sotto questa fascia d'età. Le carte utilizzabili hanno il numero 23 segnato sotto la carta. Ultimo gruppo di tornei da menzionare è quello relativo alle competizioni Plus, che ti danno la possibilità di schierare due carte di rarità superiore rispetto a quella del torneo. Al momento questo torneo esiste solo per le carte rosse, quindi giochi con al massimo due carte blu e tre rosse. In tutti i tornei le carte blu e nere hanno dei bonus XP maggiorati. Le blu del 20%, le nere del 40%. Nella schermata del monte premi e in altre sezioni del sito vedrai che c'è la possibilità di avere o vincere dei coins. Questi gettoni servono per fare acquisti sul club shop. Qui potrai comprare degli item utili per il gameplay, come slot per squadre academy e booster di bonus, ma soprattutto, periodicamente, tramite questa moneta ci sarà la possibilità di acquistare magliette ufficiali delle squadre licenziate, a volte addirittura con edizioni speciali e firmate dai giocatori. Per esempio, qualche settimana fa è stata regalata una maglietta del Liverpool firmata da tutta la squadra. In futuro, Sorairi cercherà di aggiungere sempre più possibilità di acquisto su questo shop, come biglietti per partite, esperienze VIP e tanto altro. In pratica, facendo un riassunto, su questa piattaforma, giocando avrai la possibilità di vincere carte, premi in denaro, magliette ed esperienze esclusive legate al mondo dello sport. Come ti dicevo ad inizio video, ora è molto più semplice iniziare a giocare con un piccolo budget, e inoltre puoi ricaricare il tuo portafoglio di gioco direttamente con cash senza dover per forza essere in possesso di criptovalute, cosa che non era possibile quando ho iniziato a giocare io. Allo stesso modo puoi scegliere di avere premi in euro o dollari e non più solo in cripto. Tutto questo è possibile grazie al nuovo wallet che puoi facilmente esplorare in questa sezione del sito, è una novità che c'è da pochi mesi. Io sto ancora utilizzando il mio wallet cripto perché sono interessato ad accumulare Ethereum, ma la maggior parte dei nuovi manager utilizza solamente euro o dollari ed ha assolutamente senso per chi entra ora a fare in questa maniera. Probabilmente ora che siamo arrivati alla fine di questo video sarai pieno di domande. Invito a lasciarle qua sotto nei commenti dove cercherò di rispondere a tutti, oppure di entrare nel mio gruppo Telegram dove c'è una grande community e anche altre persone potranno rispondere ai dubbi che verranno fuori per chi è entrato in questa piattaforma. Iscriviti a questo canale, attiva la campanella se vuoi seguire il mondo di Sorair perché io pubblico comunque un video al giorno su YouTube e in più puoi venire a trovarmi alle 18.30 tutti i giorni, tranne il weekend, su Twitch. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like, a condividerlo con gli amici che potrebbero essere interessati alla piattaforma e ci vediamo in un prossimo video. Buon anno! Grazie a tutti!